Per voglio facciamo una cosa al primo in Italia, anche più forte, ragazzi! Ma Filippo! Ma Filippo! Sì! Chiamalo, chiamalo! Filippo! Io di Filippo! 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 Silvia Marcionini, con l'assessore allo sport Patrick Rabaini, e con Angelo Sidoti, il prefetto di Zerbato, si sta schierando a questo punto la considerata first line, la prima linea, con i campioni che stanno caratterizzando la storia di questa centoquattresima esistenza. Filippo! E si sta schierando tutto a destra nel basso di marcia al territorio della Banca Eccentia, e l'ultimo vincitore di tappa al giro, ha alzato le braccia ieri dell'arrivo di Alpe di Mera in Balsesia, quattro successi di tappa alla Genitalia, e una volta di Storia, ha vinto anche il tour ovviato.